qui su payday 2 e siamo con tutta la band al completo con una presenza femminile no bene dobbiamo scegliere il contratto quindi che scegliamo andiamo a fare i piromani ma si da quello che volete ok allora facciamo i piromani perché siamo tutti ignoranti in materia non ha fatto mai nessuno posso dire una cosa di tutto ragazzi a noi ascoltatori questo qua è payday official siamo in anteprima internazionale mondiale rossi che tra 32 1 attivi commenti non fate finta ragazzi ai livelli e redsa 23 ma un po un bug diciamo un bag mentale un bag di sistema ok ringraziamo come al solito ragazzi alifax italia per averci dato l'opportunità di giocare a payday ufficiale in anteprima io ringrazio anche luke 43 16 che io che non c'è nel video insieme a noi assolutamente o allora leggiamo un uccellino mi ha detto che i mendoza stanno importando ancora più armi in vista della guerra con hex or andiamo all'aeroporto troviamo le armi e prendiamo le distruggiamole preferibilmente prendiamole così faremo più soldi ok ok livello di rischio 2 ragazzi qua arriva la SWAT con tutti i santi l'elipottero gli apostoli ok oggi siamo tutti ben preparati medici c'è tutto ragazzi io c'ho il kit medico chi c'ha le munizioni io 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 ok quanti valentiamo ma magari il 22 dai se ci avete altre amo allora ci sono due due dove togliere un kit quindi io mi metto le munizioni ok perfetto partiamo a me quella di tre giorni e assi è uno sbattimento atroce ok adesso sembriamo quasi seri prima di cominciare guarda che aeroporto che facciamo leggiamo pino tagliato il recinto e cercare l'hangar con il camion delle casse in mendoza saranno probabilmente li prendete le armi mi sa che qua non ci stanno i poliziotti e qua ci stanno altri cattivi bene abbiamo già la maschera o mio dio qua mi sa che dobbiamo farmacello e basta sì altro che stealth dove si va ragazzi sembra led for dead ma adesso spannano gli zombie a destra e sinistra che figateria ragazzi sono emozionato la prima volta no io sono su un testo oh merda oh merda cazzo 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 benvenuti proprio il nostro mondo stealth ragazza merda c'erano le telecamere anche in culo potevamo andata dietro però si aspettava quanta gente ragazzi non ho idea di quello che si debba fare ma cerca le armi e comunque dobbiamo cercare sto cazzo di furgone in cui ci sono le armi dovrebbe stare in un hangar però sono belle le macchine è bella proprio la mappa devo essere sincera e sincera ti sinceri o qua ci sono due furgoni saranno questi o merda se gente ecco che cazzo si debba fare ma è fatto dobbiamo scassinare il furgone ragazzo dobbiamo prendere le armi e qui raga le armi non c'è una motosega per esempio anche le armi che facciamo le distruggiamo ce le prendiamo ma donna quanto vado lento adesso ruba o distruggi le armi 0 5 ragazzi io non so perché ma stiamo aprendo anche i furgoni con i trapani a chi ci sarà dentro non lo so però però se cosa o merda ragazza di voi gli sbirri oltre che cattivi quindi sono abbacchiati con la polizia questi mafiosoni allora come si distruggono le armi no no da portarle a distruggere credo ok abbiamo due polizioni ce le mancano altri 3 è tutto molto bello o no dice che lo dobbiamo rubare le armi per fare più soldi oppure le possiamo distruggere secondo me ci fanno il culo questa è una sensazione però io ancora non capito niente io seguo voi ragazzi l'ho detto dobbiamo dobbiamo portare le le armi a 60 metri d'acqua e con la velocità ma quando andiamo non è ragazzi gli scudi gli scudi gli scudi gli scudi eccoli qua ragazza sparate gli ai piedini santi eccolo ho già finito i colpi mamma mia ma fatta a finire i colpi non lo so ma donna a donna quanto vado lento questa cazzo di borsa che borse sono veramente metti la terra ma noi vorremmo portarle via dobbiamo portarle a 60 metri e di questa da questa velocità non credo che ci riusciremo ragazzi world of tanks ragazzi intanto vi ricordo di guardare anche la visuale di vale la nostra compagna donna e soprattutto la visuale di quello sul server perché non sarà una visuale ma sarà una figata di video come al solito grazie grazie ci proviamo io sto andando piano pianino invece mi faccio i cassini nonna redez stai facendo una passeggiata nel parco tutta la riva e potenza lita che dai non mi muovo comunque un ringraziamento speciale va anche a redez ragazzi perché senza la sua nerdata non potremmo fare questo livello livello alto e basta che non l'ho raccontato a mia moglie e poi per il resto tutto bene no beh è stato anche fatto con come si dice con amore con amore per farci vedere per farvi vedere i livelli un po più avanzati il day one al day one sì assolutamente allora confondersi ok è bloccato un trapano porca puttana io sto camminando a 45,5 all'ora arrivo si è o si è aperto il ma non è che dobbiamo caricare i cosi perché stiamo aprendo sti furgoni porca non lo so io ho visto una cosa dove si poteva non è che si può forse si distruggono perché freddo distrugge furgoni non è che dobbiamo poi sparare a quel bidone che c'è dietro di te per far saltare tutti in aria non lo so io proverei io so che adesso tu sei tentato di sparare a quel no non succede un cazzo ragazzi dove siete vi ho perso tutti io sono andato a lasciare questa roba ma se superiamo sti tre giorni ragazzi sono un botto di soldi e si sono tantissimi soldi non dobbiamo vedere se ce la facciamo corri cinergo corri ma corri è una parolona vale madonna come va in mezzo alle campagne c'era il salto della polizia ragazzi ci siamo abbiamo presi tre è uno lo sto mettendo io su un 4 ok come si scappa questo posto maledetto arrivano cazzo dai che ce la posso fare dai fatto siamo qua no ti è caduto si è caduto 5 no 4 cos'è perché non che non lo prende devo entrare a metodo ok ok perfetto perfetto piccoli bug ma al day one normali che ce l'ha c'è la c'è la c'è la c'è l'energola ok ne abbiamo tantissimi ma adesso ok possiamo facciamo via via ma ce l'ho mandato abbiamo fatta non ci credo primo giorno andato vale si è combattendo ci fa il tocco battendo combatti la battaglia giusta vieni qui c'era parola c'era parola c'era parola c'era parola con rigori no ce la faccio fatte poche ci siamo ci siamo i tre uomini che scappano e lasciano indietro la donna è andata molto meglio del previsto ragazzi ragazzi il primo giorno andato per cui vedremo la prossima giornata il continuo di questa missione nel prossimo episodio ciao ciao